Noi siamo la Life Episem Italia, siamo una società che è nata proprio con l'idea di poter migliorare la qualità di vita delle persone. La nostra mission è questa e per riuscire ad arrivare a questo obiettivo abbiamo ipotizzato la distribuzione, abbiamo cercato e abbiamo trovato un dispositivo medico per il trattamento del dolore cronico neuropatico. Quello che avevamo in mente e volevamo era proprio uno strumento che non creasse ulteriore dolore ma che in qualche modo potesse alleviare vite assolutamente chiuse dentro a questo dolore cronico. Il dolore cronico è un dolore persistente, i pazienti ne soffrono per tanto tempo e per molto 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 a lungo. Questo dispositivo che noi distribuiamo si chiama Scrambler Therapy. Siamo al Fisioforum perché desideravamo aprire al mondo della fisioterapia anche la problematica del dolore cronico. I fisioterapisti tendenzialmente lavorano tantissimo col dolore acuto, vedono tantissimi pazienti ma la popolazione è sempre più vecchia e invecchiando sempre di più il dolore cronico diventa sempre un problema sempre maggiore. Questa era la possibilità di incontrare questa fantastica platea di fisioterapisti per dare un nuovo strumento, una nuova arma tra tutte quelle che hanno ma per in particolare il dolore cronico quindi non il dolore acuto. Questo dispositivo che noi vendiamo è un dispositivo medico che eroga una terapia non invasiva senza effetti collaterali con una risposta immediata sul dolore. Immediata vuol dire che si applica la terapia e immediatamente in giro di uno o due minuti si ha un'analgesia completa. L'analgesia perdura per alcune ore e nel protocollo di trattamento che prevede alcune sedute consecutive l'analgesia diventa stabile, si stabilizza questa analgesia e quindi si riesce a controllare completamente il dolore. La decisione di venire a Fisioforum è stata sicuramente vincente, siamo contentissimi delle figure professionali che abbiamo incontrato, di questa grande platea di giovani fisioterapisti e quindi vi salutiamo, vi aspettiamo sulla nostra pagina Facebook Scrambler Terapia Italia che è il nome della terapia che vendiamo oppure sul nostro sito www.lifeepistemitalia.it sul quale potrete trovare tutte le informazioni scientifiche rispetto a questa terapia. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!